...è cominciato con i fiocchi, potremmo dire, nel bene e nel male, nel senso che è cominciato con un'attenzione sui temi della politica estera che sono in maniera non esclusiva, però sicuramente prevalente, i temi che questo centro studi ha sempre portato avanti e non c'è bisogno che vi ricordi qual è il tema di cui parliamo oggi e che ha riempito le pagine dei TG, ha riempito, continua a riempire le pagine dei giornali l'attacco, l'uccisione del generale Soleimani da parte delle forze statunitensi a cui è seguita una reazione iraniana molto minacciosa nelle parole un po' scomposta forse nei risultati, caratterizzata da questa, la possiamo chiamare così, grande gaff, tragica gaff dell'abbattimento dell'aereo ucraino che ha un po' rimescolato le carte, se si vuole, perché all'inizio c'è stata una negazione da parte del governo iraniano che hanno poi l'ammissione delle proprie responsabilità con delle ripercussioni anche interne. Naturalmente un colpo così forte assestato da parte degli Stati Uniti all'inizio dell'anno, in un momento del tutto inaspettato, ha subito scatenato gli animi da una parte e dall'altra, molto semplicisticamente tra tifosi dell'operazione, tra sostenitori della politica degli Stati Uniti in particolare di questo atto e oppositori to court. Oggi presentiamo un dossier redatto dal Presidente del nostro Centro Studi Daniele Scalea che, permettetemi anche di essere di parte in questo senso, riesce un po' a tenere la barra dritta in mezzo a questi flutti, a queste opinioni divergenti perché il compito di un buon analista dovrebbe essere sempre quello di mantenere un equilibrio anche a fronte delle proprie convinzioni, di esprimere delle valutazioni che possibilmente si sorreggano sull'analisi di fatti che sono di lungo periodo e non soltanto sulla base di quello che succede nel momento, diciamo, dello scoppio, quando avviene qualcosa di eclatante e tutti hanno sulla bocca quello che capita. Nello specifico il contrasto Iran-Stati Uniti è qualcosa che va molto al di là del caso Soleimani e il dossier che presentiamo oggi e che fra un po' sarà illustrato dal collega Scalea spiega nella sua genealogia c'è una rivalità diretta fra Stati Uniti e Iran, c'è un progetto egemonico dell'Iran all'interno del quadrante vicino orientale, un rapporto con i paesi arabi e con Israele che è sicuramente diciamo dialettico all'interno della compagine del mondo arabo, ci sono tanti paesi, non tutti i paesi sunniti sono paesi arabi, penso per esempio alla Turchia, il contrasto iraniano-statunitense nel quadrante vicino orientale si svolge sullo sfondo del contrasto fra sunniti e sciiti, Daniele parla di una, ricorda questa espressione che è coniata di recente, di una possibile guerra dei trent'anni nel mondo islamico, tra sunniti e sciiti si parla di questo, ma la differenza è che nella guerra dei trent'anni europea fu seguita poi dalla pace di Westfalia, quindi da un nuovo ordine poi internazionale, il cosiddetto ordine westfaliano, difficilmente oggi si riesce a vedere l'esito di quella che potrebbe essere questa lotta intestina costante del mondo arabo-islamico, del quadrante vicino orientale, dove assistiamo periodicamente anche a cambi di alleanze, penso al ruolo che aveva l'Egitto nei confronti di Israele fino a Sadat, a quella che è stata la dinamica dell'Iraq, prima grande avversario degli Stati Uniti, adesso caduto sotto influenza iraniana e questo è un altro dei punti su cui il dossier cerca di fare luce, è un quadrante estremamente complesso, ripeto il dovere dell'analista è quello di guardare con estrema circospezione alle esagerazioni, sulla base delle proprie convinzioni sicuramente, ma sostenendo le valutazioni in base appunto ad uno sguardo più ampio rispetto ai fatti di cronaca immediata. Lascio quindi la parola a Daniele che vi illustrerà i contenuti del nostro ultimo dossier scaricabile sul nostro sito, ma di cui disponete già in numerose copie. Prego. Grazie Dario, buonasera a tutti. Io farò un sunto breve di quello che sono i contenuti del dossier, proprio perché avete la possibilità, chi voglia poi, di leggerlo per intero e poi cercherò anche di dare un'ulteriore valutazione di quello che è successo, i dossier dell'8 di gennaio sono passati alcuni giorni, sono passati anche alcuni eventi piuttosto importanti nell'area, quindi cercherò un po' di attualizzare e di aggiungere qualche valutazione. Innanzitutto il quadro generale, penso sia sempre opportuno inquadrare tutto ciò che succede in un contesto più ampio. Il contesto più ampio è quello che accennava il collega, questo di una guerra di trent'anni islamica, come è stata definita da qualcuno. Un contrasto che vede al centro l'Iran e l'Arabia Saudita, la nazione principale nazione sciita e quella che è emersa come la principale nazione sunnita. Solo in tempi recenti, sfidata in questo da Turchia che ha rivisto la propria tradizionale politica di secolarizzazione e di focalizzazione sul quadrante occidentale europeo, invece è tornata a interessarsi, a assumere un'identità più fortemente religiosa e a interessarsi al quadrante medio orientale. L'Arabia Saudita è emersa come il paese principale in campo sunnita nel momento in cui l'Egitto e l'Iraq tra gli anni 70 e gli anni 90, per motivi diversi, hanno visto una rapida parabola discendente. Al contrario, l'Arabia Saudita, grazie all'aumento dei prezzi del petrolio, il cosiddetto shock petrolifero, degli anni 70 è diventata una potenza di primo riguardo. L'Arabia Saudita è attualmente il terzo paese al mondo che spende di più in termini militari per la difesa. Terzo paese dietro soltanto agli Stati Uniti e alla Cina. Quindi è un qualcosa sicuramente di notevole. Sempre negli anni 70 e 79, il momento in cui l'Iran assume a sua volta una identificazione di tipo religiosa, ovviamente di tipo sciita, spesso si dimentica anche l'anno dell'attacco alla grande moschea della Mecca. È l'anno in cui anche l'Arabia Saudita che stava attraversando, non si può dire, una fase di secolarizzazione, ma sicuramente una fase in cui la sua politica interna non era così fortemente religiosa, tramite i suoi regnanti sauditi sceglie di adottare il wabismo come una religione di Stato, come un elemento fortemente identitario sia all'interno sia in termini di proiezione esterna e quindi si crea effettivamente una contrapposizione che non è più solo di tipo nazionale, la nazione persiana contro la nazione araba, ma diventa di tipo prima di tutto religioso, gli sciiti contro i sunniti. E questa contrapposizione viene sfruttata e alimentata dai due paesi che non solo cavalcano quelle che possono essere divisioni esistenti, ma cercano di esacerbarle. Abbiamo quindi il fenomeno come quello degli alawiti in Siria che vengono proclamati sciiti dal clero iraniano proprio per riuscire a cooptarli nel loro campo e spingerli dalla parte dell'Iran rispetto in una contrapposizione con i sauditi. Su questa contrapposizione regionale ovviamente si innesta poi quella globale, quella globale che sono gli Stati Uniti e la Russia anche in epoca post guerra fredda e che diventa tanto più significativa adesso in un momento in cui gli Stati Uniti, soprattutto con Trump, ma le avvisaglie c'erano già chiaramente durante l'amministrazione Obama, hanno scelto nel quadro di una ricollocazione strategica che deve diminuire il proprio impegno all'estero, hanno scelto di destinare meno sforzo al Medio Oriente per focalizzarsi invece sulla regione Asia Pacifico. Tanto più che, lo sappiamo, gli Stati Uniti da qualche anno con la rivoluzione dello Shell Gas sono diventati indipendenti dal punto di vista energetico e quindi anche quello che è il peso nella loro equazione strategica del Medio Oriente, dei paesi produttori di petrolio e gas tradizionali, è sicuramente diminuito. Come sempre accade in politica, nel momento in cui qualcuno libera uno spazio, gli Stati Uniti in parte retrocedono, c'è qualcun altro disposto a occuparlo, la federazione russa, che non è, come pensa qualcuno, in corso di allineamento con l'Iran e con quello che gli iraniani chiamano un po' pomposamente l'asse della resistenza, quindi Iran, Esbollah, Hamas, tutti questi altri movimenti antiimperialisti che si oppongono agli Stati Uniti e Israele. La Russia in realtà vuole occupare la posizione degli Stati Uniti, vuole diventare il broker del Medio Oriente, vuole diventare il paese con cui tutti devono parlare, l'Iran da una parte ma anche i Sauditi, anche Israele e con cui tutti devono fare i conti per riuscire a trovare una sistemazione e un equilibrio all'interno della regione. Questo è il ruolo che Putin ha designato per la Russia che sta cercando di costruire per il suo paese con un discreto successo, complice, ripeto, anche il progressivo disimpegno degli Stati Uniti che sta lasciando questo spazio che viene occupato. Nel report affronto anche quella che è la situazione interna dell'Iraq, forse uno degli aspetti meno noti all'opinione pubblica italiana perché è un po' più settoriale. Si è andati molto oltre a quella che era la situazione immediatamente post-caduta di Saddam Hussein, quindi gli sciiti che appoggiano in qualche modo l'influenza iraniana, i sunniti che anche con il sostegno dell'Arabia Saudita e di altri paesi sunniti cercano invece di resistere a questo strapotere sciita iraniano e i kurdi che cercano uno spazio per sé. Il panorama sciita non è assolutamente monolitico, ci sono sempre state delle forze che sono decisamente pro-iraniane così come ci sono sempre state delle forze che al contrario hanno cercato di mantenere degli spazi di autonomia. È il caso di Muqtada Sadr, è il caso anche del grande Ayatollah al-Sistani che hanno cercato sempre di distanziarsi in parte da un'influenza troppo pesante da parte dell'Iran. E c'è stata una forte reazione che viene ricondotta dagli analisti soprattutto delle componenti tribali del mondo sciita che si è manifestato nel corso dell'ultimo anno con queste massicce manifestazioni di protesta contro il governo, contro le forze politiche che dominano lo scenario partitico in Iraq e soprattutto contro la longa mano siraniana sul paese. In questo quadro si è inserita anche l'azione del generale Soleimani. Il generale Soleimani non è stato, è semplicissimo dire che fosse terrorista, sicuramente è un personaggio che aveva rapporti con organizzazioni considerate terroriste negli Stati Uniti e in molti altri paesi, sicuramente rapporti con organizzazioni milizie che praticano anche attività terroristiche, ma era molto di più. E non era nemmeno soltanto il comandante di questa forza di elite scelta di Pazderan che si occupa di intelligence estera e di proiezione estera. Soleimani aveva un rapporto diretto, di grande fiducia, con Khamenei, quindi con la guida suprema dell'Iran che gli permetteva di fatto anche di sopravvanzare, di aggirare il governo stesso e di condurre all'estero, in questi paesi, in Iraq, in Siria e anche in Libano, non solo un'attività di tipo di intelligence, non solo un'attività di tipo militare in cui gestiva anche unità che andavano oltre la sua forza Quds, che includevano unità di Pazderan, che includevano unità dell'esercito regolare iraniano, che includevano le milizie che lui stesso aveva creato, addestrato, che comunque preesistevano e che aveva potenziato, ma che includevano anche i rapporti con le leadership di quei paesi e in una certa misura persino i rapporti con i russi. Era di fatto diventato un plenipotenziario dell'Iran per tutta quell'area così delicata in cui l'Iran, sfruttando sicuramente anche degli sbagli strategici fatti dai paesi occidentali, in primis dagli Stati Uniti, che hanno aperto per molti versi la via all'aumento dell'influenza iraniana. L'intervento in Iraq nel 2003, che oggi è molto criticato negli Stati Uniti, è stato criticato duramente anche dall'attuale presidente americano Trump, proprio col rompere quell'argine di un regime di matrice sunnita, di matrice secolare, aspero e rivale degli al-Yatollah in Iran, cioè quello di Saddam Hussein, ha permesso agli iraniani di estendere la propria influenza sull'Iraq. Anche quello che è stato fatto in Siria può essere visto come uno sbaglio strategico che ha permesso all'Iran di estendere la propria influenza. Assad, prima del 2011, aveva mostrato già da anni, mostrava una tendenza a aprirsi verso l'Occidente, a cercare in qualche modo di normalizzare i suoi rapporti con l'Occidente. Nel momento in cui scoppia la rivolta e soprattutto i paesi sauditi e altri paesi sunniti hanno dato il sostegno a questa rivolta, malgrado che fosse egemonizzata da forze estremiste islamiche. Anche i paesi occidentali, la Francia e la Gran Bretagna, gli stessi Stati Uniti durante la presidenza Obama hanno mostrato un atteggiamento ambiguo rispetto a questo, hanno fatto sì che Assad fosse servito su un piatto d'argento nelle mani degli iraniani, fosse costretta ad affidarsi agli iraniani e ai russi per riuscire a sopravvivere. C'è stato poi un ripensamento, Trump ha cambiato molto la politica a questo punto di vista, concentrandosi invece sulla lotta contro ISIS, ma nel frattempo l'estensione dell'influenza iraniana anche sulla Siria e quindi la creazione di questo corridoio strategico che dall'Iran arriva fino al Mediterraneo passando per Iraq e Libano era già una cosa fatta. E in questo contesto regionale quindi che si è inserita la scelta di Trump di colpire il generale Soleimani come rappresaglia, non va dimenticato comunque una serie di attacchi che milizie decisamente legate all'Iran stavano compiendo contro le basi americane in Iraq con una strategia di logoramento e di tensione che denotava una volontà da parte dell'Iran o quantomeno da parte di Soleimani di portare su nuovi livelli lo scontro e logorare gli Stati Uniti evidentemente in un'ottica di riuscire ad accelerarne l'uscita dall'Iraq e in generale dalla regione in un momento in cui il Presidente Trump comunque non ha mai fatto mistero di avere questo desiderio. La scelta di Trump di colpire Soleimani e quindi di fare sicuramente di avviare un escalation nel senso che di fronte ad attacchi che indubbiamente c'erano ma che avevano portato essenzialmente all'uccisione di un singolo contractor americano per giunta in Iraq che non è naturalizzato la scelta di colpire Soleimani è decisamente asimmetrica ma rientra nello stile di Trump sotto due punti di vista a meno. Uno è quello che Trump di fronte da un lato alla volontà di non voler più fare diciamo così gendarme del mondo e di tenersi di accollarsi per gli Stati Uniti l'ordine mondiale ha però scelto un approccio aggressivo diciamo passivo aggressivo nel momento in cui vengono colpiti vengono superate quelle che l'amministrazione americana fissa come linee rosse una reazione che ritiene proporzionata e che ritiene utile a fare in modo che l'interlocutore venga richiamato immediatamente all'ordine. È quello che ha fatto in Siria quando ci fu il vero e presunto attacco con armi chimiche da parte di Assad quella stessa linea rossa che Obama aveva lasciato che venisse superata perché poi non reagì militarmente invece Trump reagì militarmente e in questo modo diede un segnale. Da un lato non c'era la volontà del cambio di regime in Siria c'era la volontà di privilegiare la lotta contro ISIS ma nel contempo lanciava il segnale che Assad iraniani i russi non potevano muoversi come volevano perché la supremazia militare degli Stati Uniti che comunque rimane decisamente intatta poteva essere in qualsiasi momento lanciata sulla bilancia e farla pendere dalla parte di Washington. In qualche modo è stato fatto lo stesso in Iraq. Di fronte a un attivismo eccessivo di soleimani di queste milizie iraniane, filo iraniane in Iraq che stavano egemonizzando la situazione, la scelta di colpire l'uomo, la mente e l'uomo anche simbolo di questi sviluppi ha chiarito, ha fatto sì che Trump chiarisse in sostanza all'Iran chi aveva la mano più forte. Gli iraniani si sono visti costretti a scoprire il loro bluff, nel senso che quando Trump ha portato lo scontro su un nuovo livello l'Iran ha potuto fare dei grandi proclami bellicosi, ha lanciato un attacco diretto con i razzi contro le basi americane ma di fatto è stata costretta a fare in modo che questo attacco non cagionasse nessun danno agli americani, quindi ha avvisato gli iracheni sicuramente raccomandandosi moltissimo che non avvisassero gli americani ma era abbastanza ovvio che avrebbero fatto e quando questo è successo sapeva che da un lato ha salvato diciamo così l'onore soprattutto a livello interno dove ha potuto inventarsi che erano stati uccisi 80 soldati americani o quello che era, ha dato un segnale, non siamo rimasti totalmente passivi però ha fatto capire agli americani che abbiamo capito il messaggio non cerchiamo l'escalation perché gli americani indubbiamente sono più forti. Nel caso di uno scontro convenzionale tra gli Stati Uniti e l'Iran non c'è dubbio su quale sarebbe la nazione se non quella che esca vincitrice nel caso che si trattasse di un conflitto diciamo che si vietnamizza e va avanti a lungo ma sicuramente quella che pagherebbe maggiormente i danni è la stessa nazione persiana in un momento in cui economicamente è già in grado di difficoltà ma paradossalmente in politica estera invece sta ottenendo degli egregi risultati e in un momento in cui l'Iran ha ottenuto un'influenza che non aveva mai avuto fino ad oggi nel mondo e quindi non aveva assolutamente, non ha assolutamente una motivazione per buttare via tutto. La mossa di Trump è quindi stata molto criticata dagli analisti, dagli esperti di politica estera sia negli Stati Uniti che qui sia con dei sensazionalismi mediatici quindi l'idea che si fosse sul punto di uno scopo di una terza guerra mondiale che francamente erano del tutto irrealistici ma anche con la volontà di rimarcare una sorta di privilegio di casta di coloro che sono nel mondo delle relazioni internazionali della difesa della sicurezza per cui ci sono delle frassi consolidate, dei modi di ragionare consolidati se non vengono seguiti non è perché Trump sta adottando una strategia originale ma perché dicono questi commentatori Trump non capisce nulla quindi sta sbagliando tutto. In realtà i fatti gli hanno dimostrato, adesso al di là di qualsiasi giudizio che ognuno con la sua sensibilità può dare, i fatti hanno dimostrato che pragmaticamente, cinicamente Trump ha avuto ragione, nel senso che è riuscito a ottenere il risultato che voleva facendo una cosa che sicuramente la maggior parte degli esperti di politica estera, dei consiglieri di politica estera e sicurezza gli avrebbe sconsigliato di fare. E dato molto importante, la sua risposta a questo attacco iraniano è stato quello di tendere la mano, cioè ha ribadito per l'ennesima volta che non gli interessa un cambio di regime in Iran, non perché gli piaccia evidentemente il regime iraniano ma perché la sua linea politica di se non non ingerenza, ridotta ingerenza negli affari esteri, gli Stati Uniti vogliono badare principalmente a quello che è il cuore dei propri interessi e si accorda anche a un possibile agreement con gli iraniani, ovviamente è un accordo che non può essere quello che ha raggiunto Obama e che Trump ha sconfessato perché ritiene un accordo che ha permesso e che permetterebbe all'Iran di raggiungere la supremazia regionale soprattutto nel momento in cui si ritirassero gli Stati Uniti e una supremazia regionale dell'Iran avrebbe l'unico esito di uno scontro, questo sì aperto, questo sì effettivamente convenzionale con Israele che prima o poi nel caso che l'Iran diventasse troppo forte nella regione e troppo vicino alle armi nucleari, questo è effettivamente probabile e Israele reagirebbe militarmente perché sappiamo che Israele ha sì una supremazia nucleare rispetto all'Iran che non può essere colmata ma non ha profondità strategica, banalmente Israele non può subire un attacco nucleare perché è troppo piccola, verrebbe spazzata via e quindi se è posta di fronte alla scelta Israele reagirebbe probabilmente con un attacco preventivo, questa è una cosa che bisogna avere in testa e che sicuramente hanno in testa a Washington, a Mosca e anche a Teheran quando fanno i loro ragionamenti strategici. Questo accordo che sta cercando, che ha offerto Trump va detto però è molto improbabile che venga ottenuto almeno nel corso di questo anno perché da un lato, ripeto, non c'è, non ci sono possibilità di una guerra aperta, ci possono essere azioni asimmetriche da parte iraniana, eventuali reazioni americane ma Trump non vuole una guerra in Medio Oriente perché gli farebbe perdere popolarità e a novembre si vuota e quindi assolutamente non la vuole, gli iraniani non la vogliono perché sono più debole e non hanno motivo in una fase in cui tutto sommato non va così male di scatenare una guerra, va male dal punto di vista economico ma ecco l'Iran non è il Giappone del 41 che può pensare di giocarsi tutte le sue carte, non ha nessuna possibilità di vincere, di migliorare la situazione da un conflitto con gli Stati Uniti, quindi lo eviterà, però d'altro canto le elezioni a novembre 2020, quindi la prospettiva, la possibilità che un democratico torni a Casa Bianca danno la speranza a Teheran di trovarsi da qui a qualche mese un interlocutore a Washington che sia più favorevole, che sia favorevole quantomeno a un ritorno al JCPO agreement, a quello cioè che è stato fatto con Obama che era un accordo che agli iraniani andava bene, che aveva permesso di eliminare le sanzioni, che ha bloccato lo sviluppo nucleare ma non bloccava quello missilistico e quindi fino a novembre 2020 non ci si può aspettare da parte dell'Iran una seria apertura a negoziati. Dopo quella data le cose potrebbero cambiare, nel senso che se vince un candidato democratico allora è probabile che gli Stati Uniti faranno una nuova marcia indietro e accetteranno un accordo, una riedizione di quell'accordo, sia che sia Biden che comunque è vicepresidente Obama, quindi vicepresidente quando è stato fatto quell'accordo, sia che sia Sanders o un altro dei candidati più estremisti, diciamo così, che sono stati fortemente critici dell'azione di Trump e che hanno palesato più volte la volontà comunque di non avere nessun tipo di scontro con l'Iran, paradossalmente un accordo si fa più vicino anche se vincesse Trump, se fosse riconfermato Trump nel 2020, nel senso che a quel punto lì per i quattro anni successivi Teranno non avrebbe più la prospettiva di un cambio di interlocutore, ha una situazione economica molto molto fragile ed è probabile che a quel punto accetterebbe un negoziato con una revisione per lei al ribasso, dal punto di vista iraniano al ribasso di quegli accordi, ma sarebbe costretto ad accettarlo. Questo è quindi sia i contenuti del report, ho cercato anche di spostarmi un po' più avanti perché il report è uscito proprio il giorno in cui c'erano stati gli attacchi missilistici iraniani e quindi la situazione è ancora molto in divenire, ho cercato di dare un ulteriore aggiornamento alla mia valutazione. Grazie molto Daniele e davvero partirei da quest'ultima cosa che ha detto perché ci ha disegnato un quadro molto chiaro, non vi dimenticate che oggi presentiamo questo studio che però è stato, era disponibile online già da qualche giorno appunto ed era stato concluso molto prima, quindi i fatti appunto danno ragione all'analisi, al fatto fondamentale davvero scevro da qualunque valutazione di merito, ma oggettivamente diciamo il deflaglare di una terza guerra mondiale sembra diciamo abbastanza difficile e un'altra cosa va detta anche a conclusione di quello che appunto diceva Daniele che l'atto in se stesso che viene qualificato ovviamente dai suoi oppositori come un atto terroristico può essere invece anche letto in termini tecnico militari come un esempio di guerra ibrida, da sempre, da molti anni si parla di guerra ibrida, si parla di modalità non tradizionali di condurre i conflitti, nella storia dei conflitti militari ci sono sempre state le imboscate, ci sono sempre stati atti di guerriglia, ci sono sempre state modalità anche irregolari di diciamo applicare, di fare targeting, di individuare gli obiettivi e di colpirli, non c'è dubbio che da un punto di vista proprio oggettivo quello che è accaduto abbia mostrato un po' la sproporzione fra le forze in campo. Da una parte una potenza che dice io ti posso colpire alla testa perché Trump non ha bombardato un villaggio facendo vittime civili, ha colpito soltanto e non è poco ovviamente il numero due del regime ma con un attacco chirurgico mirato la reazione iraniana anche a causa dell'incidente, anche a causa dell'euro sembra appunto abbastanza scomposta e palesa sicuramente una difficoltà. Naturalmente alle valutazioni tecniche si deve accompagnare l'orientamento politico, qual è il ruolo che deve avere l'Italia, quali sarebbe nel quadro dell'Alleanza Atlantica, del rapporto soprattutto con gli Stati Uniti, qual è l'approccio corretto, equilibrato diplomaticamente ma anche chiaro nelle convinzioni sul da che parte stiamo che dovrebbe avere l'Italia. Io credo che un parere di spessore in merito ci può venire dal nostro ospite di oggi che conoscete già tutti Giulio Centemero che fa parte della Commissione Bilancio della Lega ma ha, se così posso dire, un profilo molto international oriented, una sensibilità per i temi di politica estera e quindi vi passerei la parola per una valutazione sull'accaduto e sul ruolo del nostro Paese in questo difficile contesto internazionale. Sì, grazie, grazie a entrambi e grazie per l'invito. Faccio parte della Commissione Finanze, quindi ancora più mirata, ancora più tecnica, ancora più lontana dallo scacchiere geopolitico. Allora, ho letto questo report, me lo sono studiato bene, come voi non sapete la mia tesi di laurea nel 2003 era lo sviluppo economico del Medio Oriente nella seconda metà del XX secolo, partivo dagli anni 50 analizzando dati macro e microeconomici di cinque Paesi tra cui appunto l'Iran, alcuni Paesi sunniti e il mio professore poi aveva analizzato Israele. Per vedere un po' cosa fosse accaduto, quali fossero le differenze, fu molto difficile ovviamente trovare i dati ma la cosa fu interessante. Io mi vorrei soffermare su alcuni punti, intanto il primo punto lo chiamerei nuove prospettive, il secondo punto lo chiamerei elezioni e democrazia, il terzo punto che è alquanto interessante e c'è un articolo su Foreign Affairs di questo mese, la tassazione e l'ultimo punto sono le persone, perché secondo me sono le persone che fanno veramente la differenza in questo periodo storico, perché c'è una disintermediazione rispetto ad esempio alle entità statali o comunque politiche istituzionali rispetto alle persone. Per quanto riguarda le nuove prospettive, io parto dall'ultimo punto, cioè la reazione di Trump non è stata by the book e quindi criticata e quindi non compresa e quindi per esempio Michael Moore, e qui passiamo al secondo punto che sono elezioni e democrazia, ha cominciato a dire, Michael Moore per fare un esempio, andrete tutti in guerra, americani, morirete tutti, perché? Perché l'opinione pubblica americana in questa fase storica non accetterebbe delle perdite. Io ricordo che già nel 2003, cosa che mi stupì, un marinaio se non erro di Glasgow morì in Iraq, non se ne parlò in Italia, però in quel periodo vivevo proprio a Glasgow e ci furono delle manifestazioni di piazza a Glasgow, eppure era un marinaio, non era di leva, era di professione, quindi anche l'opinione pubblica anglosassone e americana ha assolutamente cambiato idea rispetto alle vittime della guerra, e lo ha cambiata per passare a un altro punto di quelli sopra elencati che poi magari approfondiremo, saluto il Presidente della Commissione Finanze al Senato, Senatore Bagnai, parlavamo di tasse, quindi no, 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 era solo un punto, non ti devi fermare, figurati, tranquillo professore, e grazie per il siparietto, grazie. E quindi c'è un altro punto, cioè in questo caso l'opinione pubblica americana, come l'opinione pubblica penso italiana, occidentale, ma non solo, lo vedremo dopo, accetterebbe di pagare le proprie imposte non per avere dei servizi alla persona, non per avere l'acqua potabile nelle proprie case, non per avere trasporto pubblico locale, ma per subvenzionare una guerra, quindi vite umane e costi, questa è stata una vera e propria, lo dico la profano, guerra lampo, cioè un'escalation asimmetrica, non convenzionale, le brigate Quds, le brigate Gerusalemme, sono brigate che fanno guerra ibrida e quindi non convenzionale, idem la risposta è stata non convenzionale. Quindi nella fine poi non così tanto asimmetrica nella filosofia alla base di tutto ciò. Quindi, ritornando alla mia tesi di laurea, che deve essere la base della cultura generale di questo paese, no sto scherzando, sto scherzando, ritornando alla mia tesi di laurea una cosa che mi aveva colpito era che nell'Iran dello Shah quasi il 70% del budget veniva speso in armamenti, veniva speso in armamenti anche perché così lo Shah si era comprato il favore degli Stati Uniti, visto che li comprava dagli Stati Uniti e non dall'Unione Sovietica. Una cosa che mi aveva colpito nei numeri dell'Iran, da lo Shah in poi, era che lo Shah aveva impostato un regime assolutamente liberticida e paragonabile a diversi regimi, non dico come quelli dell'Est Europa, perché secondo me quello paragonabile al regime di Ceausescu è quello degli Ayatollah come regime. C'è quindi un'ideologia completamente diversa che non è socialista, che non è comunista, ma uno Stato teocratico e quindi pone quella ideologia che va rispettata. Io, passando alle persone, una mia amica rumena, altro punto mio personale, oltre alla tesi di laurea, io sono anche cittadino rumeno, mia madre rumena, ho visto la Romania di Ceausescu, fortunatamente ci andavo solo in vacanza e quando tornavo in Italia mi sembrava di stare a Disneyland rispetto alla Romania di Ceausescu dove non c'era da mangiare, dove si respirava un'aria pesantissima stile Gotham City e questa mia amica andò per una famosa marca automobilistica francese che ha fabbrica in Iran e mi disse, mi ricordava la Romania di Ceausescu, mi ricordava la Romania socialista. Aveva delle amiche iraniane, si erano accadate a lei per mangiare a pranzo durante il Ramadan. La polizia fortunatamente non le scovò, ma il gestore del ristorante capì che queste erano iraniane, nonostante parlassero inglese, le invitò ad allontanarsi perché la polizia religiosa vieta le guardie rivoluziari, vieta assolutamente di violare la legge islamica, la sharia, anche se ovviamente la sommatura sciita è molto diversa da quella sunnita, eppure si tratta di uno stato teocratico con un'ideologia stupidamente così estrema. Quindi, e qui si parla di democrazia, e vediamo subito la differenza tra l'Occidente e un regime teocratico come quello iraniano. Poi leggendo il tuo report mi ha stupito la simmetria invece dell'Arabia Saudita attuale, cioè l'Arabia Saudita ha una spesa militare enorme rispetto al proprio budget e anche rispetto a quella iraniana attuale, che Iran pur presentando minore popolazione però, e ce lo insegna la storia, le guerre le vincono non solo chi ha i soldi ma anche chi è più avanzato tecnologicamente. Vedi la Panzer Division contro la cavalleria polacca, quindi grande tradizione, grande paese, ma sicuramente la tecnologia era andata avanti. E questo è un ulteriore aspetto. La mezzaluna, passando di nuovo alle persone, la mezzaluna sciita, a mio avviso è un po' una leggenda. Cioè, l'Iran ha riempito un vuoto, come sta facendo la federazione russa con i vuoti lasciati dalla politica estera statunitense, perché l'opinione pubblica russa è molto diversa, ma qui abbiamo uno slavista da quella americana, è ancora accetta delle vittime, è ancora accetta delle vittime tra i propri militari. Comunque, gli iraniani hanno cercato di riempire uno spazio lasciato libero e uno spazio anche disastrato, vediamo la Siria, appunto un paese che si stava quasi allineando all'Occidente, un paese di Bashar al-Assad, che è molto diverso da Hafez al-Assad, dove addirittura si era cominciata a bere la Coca-Cola e dove le persone avevano una certa libertà. Faccio un parallelismo storico sicuramente sbagliato, ma non era la Romagna di Ceausescu, era magari la Jugoslavia di Tito, diciamo. Comunque si stava pian piano aprendo. E quindi, certo, c'è questa partita scacchi, ma perché la mezzaluna è rotta? La mezzaluna è rotta perché la stanno rompendo le persone. E faccio riferimento a qualcosa che si chiama con lo stesso nome, ma che ha delle forme molto diverse. Si chiama con lo stesso nome nel mondo arabo e il nome è Thaura, che significa rivoluzione. È un fenomeno che è chiamato così nelle rivolte attuali in Iraq. Non si chiama così perché si chiama in Farsi, però la chiamano così anche i ragazzi che sono in rivolta a Teheran e nel resto dell'Iran. Si chiamava così in Egitto, Tahir Square, ma era una cosa molto diversa. Era una cosa molto diversa, partiva su basi molto diverse. Ma da che cosa parte la Thaura? Da che cosa partono le rivolte anche in Iran? Partono dal fatto che le persone, al di là delle ideologie, al di là della religione, perché per esempio in Iraq e Libano vediamo cristiani, vediamo sciiti, vediamo su Niti, tutti insieme in piazza e addirittura anche contro Hezbollah. Quando apro i giornali vedo il Corriere che mette il Libano sotto totale influenza iraniana. Non è assolutamente così. Ma perché? Perché le persone non sono allineate. Le persone che cosa richiedono? Richiedono una classe politica non corrotta. La stessa richiesta, se vogliamo, che sarà vista anche nel 1989 a Timisoara, se vogliamo fare un altro parallelismo che a me sta caro. Le persone vogliono uno Stato efficiente, le persone hanno contezza del fatto che il loro Stato può provvedere ai loro bisogni. Eppure l'acqua potabile non arriva nell'80% dell'Iran. In Libano manca elettricità. Nonostante ciò, che cosa ha fatto scattare le rivolte? Qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Rivolte che comunque di anno in anno proseguono. Due anni fa, per esempio, a Beirut la gente è scesa in piazza perché non si raccoglievano i rifiuti. Certo non si raccolgono neanche in alcune città italiane, ma si trova sempre una soluzione. In quel caso il problema non era tecnico, era la corruzione dei politici. Una classe politica settaria, come è la classe politica settaria in Iran e anche in Iraq. Abbiamo visto anche tanti giovani sciiti iracheni scendere contro l'establishment sciita. E da che cosa sono scattate le rivolte? Dalla tassazione. Cioè gli iraniani non accettano più che si utilizzano le proprie tasse per sovvenzionare l'hezbollah libanese, l'hezbollah di altri stati. In Iran la grossa fiammata quest'anno è stata sull'aumento del prezzo, guarda caso, della benzina. Un prezzo che ovviamente aumenterà anche per noi, visto questa instabilità e visto il prezzo del barile. E che cosa ha fatto scattare la rivolta? Una tassa ancora più liberticida, perché sarebbe andata a tassare quella disintermediazione che sta rendendo sempre più importanti le persone e i movimenti liberali all'interno anche del Medio Oriente, che era il suggerimento, in legge di bilancio, di tassare WhatsApp nello Stato del Libano. Quindi uno dei pochi strumenti di libertà di comunicazione che è internet, che a volte è stato usato male, a volte è stato usato bene, ma che di sicuro ha toccato le tasche e i cuori dei cittadini. Io ho portato avanti questa mia piccola analisi, considerato anche che faccio parte della Commissione Finanze e considerato anche quello che ascolto dalle persone che frequento, che sono sciiti, sono sunniti, vivono soprattutto in Libano ma anche in Siria, conosco degli iraniani e dei pakistani con cui parlo costantemente, ogni settimana mi faccio la mia call alle 7 del mattino o alle 6 e mezza con Beirut, con alcuni amici per analizzare un po' la situazione del Medio Oriente. Molto probabilmente sono uscito dagli schemi delle relazioni internazionali, ma questo è quello che vedo e quello che vedo è il ruolo che può giocare l'Italia, ovviamente sempre allineata dalla parte della democrazia, secondo me delle persone è un ruolo di assoluta leadership all'interno del Mediterraneo che abbiamo perso, abbiamo perso la Libia, abbiamo perso tanto spazio di azione, solo tornando agli anni 80 neanche troppo in là avevamo di sicuro anche tecnologicamente un ruolo di interscambio molto più ampio con questi paesi e ovvio che dovremmo essere un po' più attivi se non altro dal punto di vista della diplomazia culturale, della diplomazia quindi anche legata alle nostre università e dal punto di vista sicuramente umanitario. Ho concluso, mi taccio e sono a disposizione. Diciamo direi che per la profondità dell'analisi comunque anche nella sua informalità e per lo spirito di lungo periodo la curiosità nasce nel conoscere questa tesi di laurea e quindi come Machiavelli potremmo anche ospitarne degli stralci qualora sia inedita ma oltre a questo spunto credo che veramente l'insistere sulla dimensione delle persone che è la chiave di lettura che un politico deve fare, un politico sta nelle istituzioni ma sta anche tra la gente, sia particolarmente importante perché a seguito dell'abbattimento dell'aereo ucraino abbiamo visto anche di nuovo quello che l'onorevole Centemero ricordava parlando delle proteste iraniane ora è esploso nelle proteste anche contro il fatto di avere mentito la popolazione. C'è stato un tweet fatto da Trump direttamente in farsi, insomma quella rappresentazione troppo semplicistica che vede l'Iran degli Ayatollah dalla una parte contro gli Stati Uniti dall'altra senza considerare le persone che nello specifico vuol dire la vivacità della società iraniana e quindi correlativamente le difficoltà interne al regime degli Ayatollah a compattarsi di fronte a degli oggettivi insuccessi credo facciano molto riflettere e quindi grazie per questa analisi e per questo spunto sulla centralità del Mediterraneo. ha nominato l'onorevole della Libia, non so se su questo Daniele vuole aggiungere qualcosa per allargare il quadro relativamente alla complessità della situazione in conclusione. Sì, sulla Libia veramente telegrafico un minuto così magari non so se ci sarà il tempo di qualche commento dal pubblico. Io credo che senza false ipocrisia anche se i popolari anche se i popolari bisogna chiarire una cosa che riguarda la politica estera, non esiste una politica estera senza uno strumento militare, sia come dire impotenza, l'Italia effettivamente ce l'ha, ha la sua porta aerea, ha i suoi cacciabombardieri, non è priva, ha le sue truppe di elite, voglio dire non le manca, quello che le manca è la credibilità nel senso che chiunque sa che l'Italia non lo userà mai e quindi di fatto non ce l'ha nemmeno in potenza. Che è quello che non succede per altri paesi, non mi riferisco, adesso lasciamo stare gli Stati Uniti che sono un caso a sé stante, ma la Francia quando ha avuto un problema in Mali ha agito in un certo modo, l'Italia quando ha avuto un problema in Libia ha agito in una maniera molto più, con molta più ritrosia, con molte più indecisioni, ha scelto un cavallo salvo poi non appoggiarlo seriamente, però bisogna anche adattarsi, cioè se uno rinuncia allo strumento militare, posto che senza di quello qualsiasi politica estera sarà molto molto debole e quindi non ti può aspettare di avere, non dico un ruolo di protagonista, ma nemmeno il coprotagonista, ma poi non puoi pretendere di assumere una posizione rigida, vale a dire se l'Italia all'epoca di Rezzi e Gentiloni disse Serrage è il nostro uomo in Libia, deve essere riconosciuto anche internazionalmente, nel momento in cui poi, e tu sei rigido su quello, cioè non è che stai giocando perché dici un posto con lui, un posto con Aftar per cui in qualche modo cadi sempre in piedi, in quel momento in cui poi Serrage sta affrontando una sfida militare contro il suo potere, non puoi offrirgli in cambio un ospedale da campo e i corsi di gender della 30 per gli ufficiali libici, perché le sue richieste hanno altre e quando non sono state soddisfatte dall'Italia le ha cercate in Turchia. Quindi bisognerebbe, penso proprio a livello di opinione pubblica, non solo di classe politica, mettersi un attimo, guardassi allo specchio e dire cosa vogliamo fare da grande, cioè vogliamo pensare che ripetere ossessivamente l'articolo 11 della Costituzione, tra l'altro secondo me senza nemmeno capirlo, perché un conto è ripudiare la guerra come strumento di risoluzione controverse, un altro è adottarlo in termini giapponesi, tra l'altro pure i giapponesi lo stanno superando, che vabbè fateci quello che volete e noi non ci difendiamo, che sono due cose diverse. Ma non è che ripetere ossessivamente quello o esibire le bandiere della pace fa sì che i tuoi interessi nazionali si difendano nel mondo, questo non succede. Ora se qualcuno pensa che possiamo rinunciare agli interessi nazionali, che possiamo come dire fare la Svizzera, la Svizzera non è un paese aperto sul mondo come noi tramite i tre mari che bagnano l'Italia, non è un paese che ha gli interessi complessi che ha l'Italia, non è un paese, ecco, l'Italia dipende sotto tanti punti di vista, dall'approvvigionamento all'estero, si espone a delle minacce all'estero che possono essere di tipo infiltrazioni terroristiche piuttosto che ondate migratorie che destabilizzano la società. Se non c'è una politica, che è una politica estera e quindi di conseguenza anche i militari che affrontano queste minacce, questi pericoli, o che non cerca anche di cogliere le opportunità che di volta in volta si pongono, sei un soggetto totalmente passivo, se ti gira bene allora sei fortunato, quando ti gira male poi ti ritroverai le ondate migratorie, ISIS che penetra nel paese, piuttosto che una carenza nell'approvvigionamento di petrolio e di gas, crisi economica conseguente, tutte quelle cose che ci possono succedere. Quindi penso che la cosa più importante, la lezione più importante che ci dovrebbe insegnare a Libia è che bisogna cominciare a discutere di questo tema, cioè se l'Italia vuole continuare ad essere il paese dell'irenismo rosso-bianco di qualsiasi colore sia e del disfattismo o se vuole essere un paese normale, perché i paesi normali comunque hanno delle forze armate e con tutta la riluttanza del caso, perché qui nessuno è guerra fondale o militarista, però ci sono dei momenti in cui bisogna anche essere disposti ad operare lo strumento militare in maniera limitata, proporzionale a quelle che sono le sfide, ma va fatto. E diciamo che un bagno di realismo e quindi anche di buon senso è sicuramente un buon modo di cominciare l'anno. Se qualcuno ha qualche riflessione, ma veramente brevissima telegrafica, perché siamo proprio in chiusura, prego. Il scenario interesse è quello che è stato illustrato e complimenti ai tre relatori, tutte e tre interventi impeccabili. Io mi riconosco nelle vostre valutazioni, dico vostre perché nel complesso mi pare che la linea di tendenza sia la stessa. Sono solo due osservazioni che sono nate dalla mia esperienza, quindi valgono quello che valgono e impegnano solo la mia persona. Per quanto riguarda il Libano, che certamente è una grande stanza di compensazione dei conflitti medio orientali e come tale va tutelato. Non fosse altro per questo. C'è un elemento che forse andrebbe ancora più messo in luce ed è il peso decisivo che la presenza cristiana dà sempre, perché i cristiani non sono una minoranza in Libano, sono un elemento costitutivo della società libanese e sono là da prima che arrivasse la conversione forzata, in molti casi, all'Islam. Quindi questo va menzionato. Questo è stato un elemento decisivo nell'assicurare che il Libano sia, con tutte le sue imperfezioni, una democrazia parlamentare, con una stampa fiorente, una televisione piena di dibattiti intelligenti, ricchi. Mi pare che sia veramente decisivo ricordarlo. Un Medio Oriente che continuasse a svuotarsi di presenza cristiana, ormai rimasto solo in Libano, ci restituirebbe veramente un Medio Oriente senza linee divisorie tra Sunniti e Sciti e si arriverebbe al grande scontro. Poi sul fatto che i cristiani libanesi siano divisi, questo meriterebbe una profondità, sul fatto che questa divisione per certi versi sia utile, perché tu hai una parte con il Presidente Aoun che è notoriamente filo-iraniano, filo-iraniano, filo-comeinista, perché l'Iran è un grande paese, ma qui parliamo del regime. Hai un'altra componente che è quella di Amin Cemayel e di tutti i cristiani che tanto hanno sofferto anche durante la cosiddetta guerra civile che è molto vicina all'Europa e agli Stati Uniti, per certi versi è positivo, perché riesci a tenere... Comunque i cristiani sono un elemento di stabilità, di democrazia e l'infa vitale per quello che è il Libano oggi e che speriamo resti il Libano per sempre. Questa è la prima riflessione. La seconda, e lì dissento in qualche misura, io ho forti riserve sul ruolo di Assad. Credo che Assad sia l'espressione di un regime criminale che si è macchiato di crimini indicibili in Libano e non solo. Basta pensare, questo lo ricordo come fosse ieri, che quando si verificò questa rivolta in attesa per il Libano, vennero sgozzati due sotto ufficiali libanesi in un campo profughi palestinesi, sino ad allora tranquillo, che si chiama Narel Baret e i terroristi sunniti presero possesso di quel campo. In pochi giorni l'esercito libanese si è trovato obbligato per mancanza di armi di precisione, perché c'è un vetto israeliano sulla consegna di quelle armi alla dirigenza libanese, a usare quello che avevano e il capo di Stato Maggiore dell'epoca, che poi divenne Presidente, mi disse, noi colpiremo con quello che possiamo, è chiaro che ci potrebbero essere vittime collaterali. Allora questo campo venne conquistato dai terroristi, sgombrato a forza con le bombe da aerei e da elicotteri dall'esercito libanese, ritornò sotto il controllo della statualità libanese. Guarda caso, i terroristi che ne furono responsabili di questo attacco inatteso, vennero tutti presi e condannati alcuni giustiziati, salvo il leader di questa organizzazione nata dal nulla che si chiama Shakerabsi. Di questo Shakerabsi le ultime indicazioni, ma che mi vennero all'epoca da fonte elevatissima libanese, che non posso citare perché resta un dovere di riservatezza e ho dato la mia parola a questa figura, questo signore trovò rifugio in un paese vicino, uno a caso, la Siria, ed era stato sino a una settimana prima dell'evento in questo campo in una carcere siriana per aver ucciso anni prima l'ambasciatore Giordano in Siria. Improvvisamente per motivi incomprensibili o che molti lo vogliono come, graziato da Assad e riappare il libero per questa azione terroristica. Quindi la mia sensazione è che il regime siriano abbia bisogno di cavalcare l'estremismo sunnita, quando c'è è un dato di fatto, quando non c'è lo si aiuta, perché questo aiuta i libanesi filo Iran o filo Assad, vedi generale uno a dire vedete la nostra alleanza naturale con l'Iran perché i sunniti sono tutti brutti a cattivi e questo non è vero e dunque la valutazione sulla gestione Assad credo che debba essere molto sfumata. Lui non protegge i cristiani, protegge i cristiani che gli fanno comodo, gli altri spesso li ammazza. Mi fermo qui perché richiederebbe una trattazione dedicata. Sì, infatti guardi, Assad l'ho paragonato a Tito che si è macchiato di tremendi crimini e sono assolutamente d'accordo sul fatto che anzi la guerra civile in un primo momento l'ha messo in difficoltà però poi ahimè ha eliminato tutta la vera opposizione che aveva in Siria che guarda caso era composta soprattutto da cristiani e quindi ha sempre trattato Libano come fosse una colonia, tanto che i libanesi tutti, la maggior parte, riuscirono a scendere in piazza e a far uscire i siriani dal Libano. Quindi io sono assolutamente d'accordo. Un suo collega mi raccontava che durante l'occupazione dell'Isis in Siria comunque il regime di Assad comprava il petrolio, la benzina dall'Isis perché i pozzi controllavano loro. Quindi è chiaro che torniamo alle persone, è un gioco in cui però rimetterci sono le persone in cui ci hanno rimesso tanti poveri siriani che vivevano tranquillamente nel loro paese, peraltro tanti anche imparentati con la mia famiglia che è la mia moglie di origini armene hanno lasciato Aleppo per andare in Armenia negli Stati Uniti, quindi in un'altra diaspora. Assolutamente d'accordo con lei, ambasciatore. Grazie molto, diciamo che siamo oltre tempo massimo, quindi vi ringrazio della presenza, vi do appuntamento al prossimo appuntamento che vi anticipo, riceverete tra poco la locandina, sarà il giorno 27 gennaio, avremo un ospite dal Giappone per una molto interessante conferenza sui rapporti Cina-Giappone, quindi riceverete dettagli a breve. Grazie, buonasera. Grazie.